Come mai i carcerati americani sono così grossi e muscolosi? È una domanda che viene molto spontanea, soprattutto quando guardiamo quelle serie tv americane ambientate nei carceri. Ovviamente sono attori, ma non è che c'è un fondo di verità. Ho cercato su YouTube e effettivamente ci sono delle testimonianze di ragazzi che sono riusciti a tornare in forma in carcere. Ma come è possibile? Cioè hanno una dieta che è sbilanciatissima, mangiano due volte al giorno, eppure riescono comunque a ottenere dei risultati. La loro dieta è alta in carboidrati e povera di proteine. Oltre a quello c'è anche lo svantaggio che in alcuni carceri non si può neanche utilizzare i pesi, proprio per questioni di sicurezza. Ho trovato una testimonianza interessante di un ex carcerato che ci spiegherà come si allena, come si alimenta e soprattutto come fanno a essere così in forma. Come dice lui, la mentalità dei detenuti è completamente diversa rispetto a quello della persona comune, sono continuamente sotto pressione e, per sopravvivere, danno il massimo nei loro allenamenti. Sono d'accordo anche sul fatto che molte persone si nascondono dietro al sovralenamento e si allenano davvero poco rispetto a quello che potrebbero. Inoltre, l'intensità dello sforzo è sicuramente un fattore da non trascurare. Ora vediamo come sopperiscono alla mancanza dei pesi e di un bilanciere e soprattutto i loro esercizi preferiti. Quindi loro abbinano il calisthenics o il corpo libero a dei pesi di sabbia o comunque fatti in casa e da questo riescono a ottenere comunque degli ottimi risultati. Inoltre, non contare le serie e le ripetizioni e quindi andare a cedimento può essere una strategia efficace soprattutto se hai molto recupero come nel caso dei detenuti, appunto. Un'altra cosa che possono fare è quella di incrementare la difficoltà degli esercizi a corpo libero. Quindi possono passare da i classici piegamenti a terra a dei piegamenti rialzati e infine a dei piegamenti monobraccio. Pensate che seguo ragazzi che hanno veramente poca attrezzatura poco tempo ma comunque riescono a ottenere ottimi risultati proprio grazie alla costanza e soprattutto a un giusto metodo. Se volete contattarmi per il servizio di coaching online cliccate nel link in descrizione. Vi darò un test e in base a quello vedremo come potrò aiutarti. Ora vediamo la loro alimentazione e soprattutto se utilizzano degli integratori particolari. Mi sorprende il fatto che riescono a mantenere un apporto calorico elevato e quindi riuscire ad aumentare la loro massa muscolare. Ma non è che fregano il cibo al proprio compagno di cella? Secondo voi come fanno? Commentate qui sotto e fatemi sapere la vostra. La morale di questo video ragazzi è che con il giusto impegno e mentalità si riescono a ottenere ottimi risultati nonostante una situazione davvero difficile. Se il video raggiunge 200 like potrei replicare personalmente uno di quegli allenamenti dei detenuti e anche io spingermi oltre i miei limiti. Inoltre se non sapete cos'è il calisthenics o vorreste iniziarlo guardate questo video. Grazie. Grazie. Grazie.